Oggi parlerò di fartlek. Fartlek è una tecnica di allenamento della corsa ad alta intensità e letteralmente significa gioco di velocità. Consiste in una variazione continua e una alternanza di ritmi molto veloci a ritmi blandi. Il recupero è sempre attivo e questa è la caratteristica di questa tipologia di allenamento. Rientra nelle categorie ad alta intensità e viene usata negli sport aerobici. Secondo allenamento della settimana, settimana di scarico, prima della mezza maratona di Milano. Oggi programma fartlek 1 a 20 secondi a meno 10 e 40 secondi rispetto alla soglia anaerobica. Sto concludendo il warm up. Grazie a tutti. Ho fatto dieci minuti di riscaldamento. Adesso appena arrivo sull'asfalto, iniziamo il fartlek. Per cui si parte, come ho detto, 20 secondi a meno 10. 3, 2, 1, via! E adesso 40 secondi a più 40. Questo è il fartlek. Cambi di ritmo veramente ravvicinati. via! Minuto 10! Più 40 e così via! 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 Grazie a tutti. Ecco questo è un passo da 5,40. La respirazione è fluida. Questo ritmo è molto importante nella preparazione. Perché abitua il fisico alle lunghe distanze. Sto tornando nella parte boschiva. Adesso allunghiamo un pochino. Spendo un altro sentiero. Spendo un pochino. Grazie a tutti.